Oh, benvenuto a Lugosabas, stasera parleremo di cosa? Cosa potremmo parlare? Di fumetti, di fumetti, ma naturalmente parleremo dello sconosciuto di Magnus che ho in questa precevole edizione Oh, no, sì, questa precevole edizione, no, non è proprio questo, no, questo in realtà è un fumetto che ho preso oggi perché sono veramente arrivato alla frutta per vicende scolastiche, vicende ovviamente familiari di cui voi non frega niente, ma sono serie di rotture di scatole di qui e di là sono arrivato a venerdì che è domani, proprio arranchiando, poi ovviamente i colleghi vogliono fare il pranzo di Natale, io eviterei perché poi li vedo tutto l'anno, poi io non sono come la Ferragni un mangiatore di Pandori quindi l'italiano tende sempre alla buffata, questa è la cosa della buffata all'italiano piace una cosa tavica, storica, nel senso che noi ci riuniamo per mangiare tutti insieme, io che bevo solo caffè capite, in queste riunioni che sono anche a stemio, non bevo alcolici quindi sono un po' come un musulmano alla saga della pochetta e quindi tenterò una fuga precipitosa prima che inizi la buffata ma non perché, perché poi va bene, nel senso sì, salutiamo i colleghi ma a parte ci si vede l'8 gennaio, l'8 gennaio, è che poi c'è una separazione non definitiva, capisco magari d'estate, passano due o tre mesi, ci sono i colleghi che vanno in vacanze vanno in pensione, ma non parleremo di tutto questo, parleremo né di Zio Paperone che ovviamente questo mi ci vuole, ma parleremo dello sconosciuto quindi però già ci fa capire che il fumetto può avere ovviamente molti aspetti sia all'incontrario, è ovvio che quando abbiamo detto fumetto non abbiamo detto assolutamente nulla perché l'ho sconosciuto e io adoro Paperone dei Paperoni, scusate perché ci sono intellettuali seri e programmatiche che naturalmente fanno video su YouTube anche di cose, argomenti molto seri che secondo me, ma in mio modesto parere che un canale YouTube possa influenzare la politica internazionale allo stesso modo che non so, Paperino possa influenzare la politica degli Stati Uniti questo è difficile, poi naturalmente sì, naturalmente sì, per carità, tutto può essere ma non vedo un grande poi c'è sempre, mi fanno un po' voglio dire, anche ora si parla della Ferraghi, c'è Gossi e se non ne vuole parlare, ah vuoi parlare? perché poi è un po' di Gossi più ci vuole nella vita anche parla di Ilari e Totti insomma, ma perché no? siamo vicini a Natale, parliamo anche del divorzio di Ilari e Totti ma perché no? Perché siamo esseri umani, non possiamo ma ci sono alcuni super intellettuali loro non si abbassano a questi bassi regni dove noi parliamo di Paperone ma lo sconosciuto in realtà è un fumetto che in realtà è molto impegnato questo è la, cioè in realtà non è una cosa da prendere sotto banga sotto banga, sotto banga non so cosa vuol dire, sotto gamba allora non ho parlato di Frollo che, no perché c'è la pubblicità di un fumetto di fantascienza di Frollo fantascienza per quei tempi, fanno molto al Raymond Flash Gordon che era un po' il modello, che verrà pubblicato prossimamente sempre su queste e dico le cosmo, io adoro Frollo e Biancaneve mi piace non tanto, beh la storia di Biancaneve erotica e sette anni ma proprio per i disegni di Frollo sono molto belli e questo era del 76 mi sembra l'ultimo numero l'ultimo numero mi sembra che nel 76 uscì l'ultimo numero eh, dello sconosciuto sotto la, cioè dello sconosciuto stile Barbieri poi lo sconosciuto ritornerà sulle, sulle pagine dell'Oriente Express che è una rivista che quando ero ragazzo io me la ricordo l'Oriente Express ora alcune, nella parte finale di questo numero ci sarà un po' la storia editoriale che io devo un po' scavare nella memoria negli abissi nella memoria ovviamente spesso è una bellissima rivista di fumetti ovviamente dove Cavezzali, Giardino, Manara Micheluzzi, Panebianco ovviamente in quegli anni, in quel tempo mentre Gesù apostrofava le folle nelle edicole non solo c'erano i fumetti che ci sono ancora oggi Tex, Zagor e poco altro ma oggi c'è rimasto poco altro e questa è tutta ristampa in senso ho preso anche la ristampa di vabbè, tutta è ristampa in senso, tutta è una ristampa la vita è tutta una ristampa ora stanno, mi hanno comunicato no, lo sapevo che ristampano ma anche Manara giustamente la concorrenza la Cosmo, Biancaneve risponde, Gazzetta dello Sport, Manara Biancaneve, Zola Vampira contro Manara chi vincerà questa affascinante battaglia del fumetto sexy degli anni 70 e no, dicevo che stavo dicendo no, ovviamente c'erano un sacco di riviste Oriente Espress Totem Comic Arts c'erano un sacco di roba ovviamente Corto Maltese la rivista eccetera eccetera qui si parla ovviamente di Magnus varie anche riviste di cui ho perso la memoria tipo Under Comics Casa di Tice Dardo del 73 e vabbè tanta roba Horror che era una rivista in cui c'era una storia inizia l'amicizia tra la fine tra la fine della collaborazione del 73 in realtà gli ultimi numeri di Alan Ford sono cioè anche gli appassionati di Alan Ford devono capire che gli ultimi numeri che sono firmati da Magnus in realtà Magnus ha fatto a malapena le matite che poi furono inquestrate soprattutto da Romanini a volte corteggi a varie altre persone che appunto perché Magnus prima di lasciare la corno che si era un po' stufato nel senso che aveva dei vittimi pazzeschi poi insomma a certo punto è chiusa con Satani che poi con prima con Crimina poi Satani che poi l'ultimo con Cochius e fu Alan Ford naturalmente in questo periodo in quel tempo fece l'amicizia a duratura con Bombi si Bombi che morì prima di Magnus perché appunto andando ora Red Ron e ancora perché sto parlando di Red Ron perché andava nella trasmissione di Red Ron e Bombi fu investito nella macchina mentre andava mi sembra all'Oxybar non so come si chiamasse la trasmissione per vendere delle tavole di beneficenza perché Magnus era già malato di cancro una storia piuttosto tragica dei due autori che muoiono a poca distanza l'uno dall'altro e Bombi e Magnus essendo due Emiliani Romagnoni insomma quel che sono e quel che erano appunto erano fatte amici anche perché erano due pazzi furiosi si erano rintanati sull'appennino Magnus a disegnare ovviamente il Texone sarà l'ultima sua opera e Bombi sempre Bombi era Bombi in senso Bombi che è stato sempre ristampato alla Cosmo ovviamente sempre per Nick Carter Nick Carter che ovviamente tutti sappiamo Nick Carter Super Bu noi rientriamo tutto questo naturalmente questa è la morte in realtà secondo me lo sconosciuto in pratica finisce con questo perché ovviamente c'è la morte dello sconosciuto io ne ho già parlato in vari altri vari altri video di questo numero lo sconosciuto viene ucciso da un terrorista e c'è la scena della bambina innocente cioè è ovvio che Magnus è anche filo palestinese c'è una storia molto filo palestinese però Magnus si pone sempre il problema non essendo uno stupido che quando le vittime innocenti a parte scene abbastanza sexy eccetera eccetera in Magnus ci sono scene molto però in questa scena si vede la morte dello sconosciuto si vede una bambina che gioca con un palloncino la bomba sta per esplodere nel frattempo una scena sexy e ovviamente si vede la bimba Elga col palloncino e la bomba che arriva e la vittima innocente che muore che muore nel senso che quando c'è il senso di queste due vignette è che la lotta politica coinvolge sempre gli innocenti e tendenzialmente non c'è mai chi ha ragione e chi torto perché quando si uccide si ha sempre torto secondo me anche per le più nobili ragioni credo che questo sia il pensiero di Magnus in questa dissolvenza ovviamente lanciata dal terrorista che cita in questa dissolvenza si vede la morte di la morte dello sconosciuto è molto bella perché si vede che si sfà e ovviamente c'è la citazione di Shanfara un poeta pre-islamico Shanfara devo già detto in un altro video Shanfara Magnus cita un poeta pre-islamico prima di momento ovviamente Shanfara era un bandito ho già detto in un altro video che viene esiliato dai suoi compagni beduini giura vendetta su 40-50 suoi persone che sono tipo il conte di Montecristo l'ultima riesce a uccidere tutti i suoi nemici nel deserto eccetera eccetera ed è anche un poeta maledetto tipo Villon tipo poeta bandito narra la leggenda che l'ultimo suo nemico morì perché mentre camminava nel deserto inciampò nel cranio di Sanfara Shanfara e si rivende un'infezione al piede quindi riusci a uccidere tutti i suoi nemici anche da morto questa è una leggenda però è un poeta pre-islamico maledetto ovviamente non è musulmano perché ovviamente è una poesia islamica sì qui però c'è un problema perché testa qui partito no qui è una cosa molto grave perché qui è partita parte della vignetta sul luogo dello scontro resterà abbandonato il restante mio corpo e qui mi rallegherò perpetuo bandito per i miei delitti perché Shanfara era un bandito qui in questa ma tu allieta teo iena non mi seppellita seppellirmi a voi ho vietato e Shanfara minaccia che sarà qui c'è proprio anche il testo musulmano islamico che Magnus era un grande cultore sia di oriente io non sono un morto di sete che fa pace di sede cammelli con i piccoli malnutriti mentre le madri esaoste liberano le poppe non un vile poltroni incattucciato con sua moglie consultandosi con lei su come deve comportarsi non un pavido con uno strusso nel cui cuore palpitante pare che sia una loda che si solleva e si abbassa non sono rattrappito sappi che io sono un uomo della pazienza che riveste la sua armatura su un cuore di bastardo di iene di fortezza amicale io inganno ostinatamente la fame tratta di ammazzarla e passo tutto il silenzio e il mio silenzio si fa di disperazione eccetera ovviamente c'è tutto il pometto di San Faracchi viene riportato ho vedovato donne e resi orfani figli e sono tornato così come partì nel piano terrore notturno tenebrore notturno eccetera eccetera quindi in realtà Magnus fa un'operazione riporta il testo pre-islamico di San Farah in arabo e San Farah è forse il maggiore poeta pre-islamico ovviamente nelle scuole come si impara all'arabo nel senso si impara leggendo e recitando il Corano perché la poesia araba da parte dello stesso Corano si recita quindi va recitata anche qui questi palestinesi che adesso sono San Farah San Farah è un bandito destinato nel deserto che si vendica dei suoi nemici si aggira intorno agli accampamenti affamato assetato ed è ovviamente una metafora abbastanza ovvia dei palestinesi io sono un perseguitato dai delitti che si giocano a maestire la sua vita a chi di loro sia destinata qual vittima eccetera eccetera è ovvio che lo sconosciuto incontrerà il suo futuro futuro assassino e lo porterà nel luogo tra l'altro anche questo fumetto Magnus farà ora non ve lo faccio vedere se non la censura è una scena di di sesso ovviamente tra il ricco egiziano e sua moglie e naturalmente nella Magnus è uno dei pochi che nonostante il fumetto erotico uno dei tabù del fumetto erotico italiano è la rappresentazione del membro maschile invece qui in Magno non solo rappresenta ma lo rappresenta circonciso perché ovviamente sia gli arabi che gli ebrei sono circoncisi però non vi faccio vedere naturalmente ovviamente e ovviamente la scena erotica si mischia con l'amore e morte per cui la scena dell'attentato è quel gusto grottesco di Magnus di mischiare tutte e due le cose in realtà qui lo sconosciuto appunto muore salvando cioè cercando di salvare la vita ai turisti che affollano l'albergo siamo a Beirut in realtà siamo questo numero conclude il primo ciclo delle avventure dell'avventure dello sconosciuto il terrorista palestinese ovviamente accettato con Shafara in pasta e cani ci sono ovviamente una serie di turisti a parte scene molto sexy con matrimonio molto belli disegni ovviamente Magnus si è documentato siamo ovviamente un gioco di di un gioco di rimandi tra Israele Palestina Libano Libano diventò un un teatro di massacro prima ancora di Israele perché in Libano c'erano cristiani arabi cristiani arabi musulmani poi Israele ovviamente i campi profughi palestinesi quindi è un fumetto che ha una certa ancora purtroppo una certa attualità dagli anni 70 oggi ha una sua attualità il disegno di Magnus è molto più impegnata anche se in una scena Magnus cita cita se stesso in cui si vede ovviamente il ragazzino che va a cerca di fumo il Libano ovviamente il fumo libanese non stiamo a spiegare di cosa stiamo parlando ma sta leggendo Alan Ford quindi il ragazzino del nord Italia che va in Libano era una zona turistica in Libano dove ci si stavano i fenici Tiro Sidori insomma grandi mercanti fenici nella storia biblica il re di Tiro era nemico e amico del re di Gerusalemme tale Salomone il tempio di Salomone è stato costruito grazie agli artigiani fenici che abitavano nel Libano la fenicia è il Libano di solito naturalmente sempre persone che senso ha studiare i fenici i fenici hanno inventato l'alfabeto senza i fenici non ci sarebbero i fumetti saremmo rimasti con le grotte di Lascaux di Segneri cioè il fumetto funziona anche perché i fenici hanno inventato una scrittura tendenzialmente una scrittura abbastanza alfabetica alfa bet sono alfa il toro bet la casa eccetera eccetera le nostre lettere hanno nomi fenici ovviamente le scene di le scene di fenici appunto l'albergo dove si devo dire sempre come al solito che il disegno di di questo c'è un grande uso di retini e queste sono due genti israeliane che faranno una brutta fine ovviamente a parte le scene sexy tra l'altro il ricco il ricco il ricco che l'unico che si diverte in questa storia è il ricco se lo becco no è ovvio che comunque è un disegno molto realistico molto fotografico a me non cioè onestamente ripeto sempre mi piace più lo stile satanico e criminal però anche perché qui Magnus fa un discorso diverso nel senso che ovviamente si vuole allontanare definitivamente dal discorso se la Lanford vuole fare un fumetto il ricco egiziano che ovviamente se la spassa con la giovane moglie minorenne nel senso che ovviamente la giovane moglie è minorenne in senso che è minorenne secondo i nostri parametri poi dipende tutto dai luoghi insomma si diventa maggiorenni e minorenni nelle zone a seconda è tutto un concetto molto relativo anche mia nonna si sposò a 17 anni oggi credo che sposarsi a 17 anni sarebbe forse un po' illegale quindi è ovvio che è ovvio che ai tratti di Bob Rock e di Magnus ovviamente Magnus che insomma si autori ritrae in questo ricco banchiere ricco commerciante egiziano che è in viaggio di nozze in Libano nel momento in cui il Libano viene devastato dalla guerra tra arabi cristiani arabi musulmani poi palestinesi eccetera eccetera il Libano diventa ancora oggi è ovviamente il confine con Israele il Libano era una delle zone più ricche del Medio Oriente di banche banche libanesi insomma erano delle zone nell'immediato dopo guerra erano delle zone più ricche del Mediterraneo poi con questa guerra devastante che viene rappresentata in questi numeri ovviamente scena molto splatter ora non di oggi ho spoilerato nel senso però ripeto questa scena qui forse è una delle più belle di Magnus perché appunto si vede la bambina innocente che sta per morire e non si rende conto che sta per morire la sua vita è finita prima ancora di iniziare naturalmente si può essere pro palestinesi pro israeliani pro quel che volete voi pochissimi sono pro innocenti nel senso ho visto un video delirante in cui uno diceva ma ho visto sulla guerra israeli palestinesi ho visto video deliranti da tutta l'Anda da tutte le parti ma il problema non è fare il tifo nel senso che il problema è che un innocente che viene ucciso non importa per quale nobilissima causa un innocente viene ucciso questo è quello che vuole dirci Magnus un innocente che viene ucciso una bambina che viene uccisa che poi è tedesca o svedese insomma che non c'entra nulla a parte naturalmente ci sono ovviamente gli aerei israeliani che bombardano i campi profughi eccetera eccetera Magnus però ha questa capacità di essere ovviamente era uno scrittore di fumetti di sinistra ovviamente credo che Mars Bunker fosse più anarchico di destra comunque però si intendevano poi in realtà non è importante però ovviamente senza Mars Bunker però anche qui Magnus appunto ripeto non fa sconti a chi uccide vittime innocenti perché il suo ideale è mobile la vendetta nel senso se tu questa scena è molto iconica poteva non mettercela Magnus invece questa scena della bambina innocente che verrà non c'è ovviamente il corpo devastato della bambina ma si vede la bambina prima e con la bomba e qui la madre che dice c'è una scena talmente è orribile nella sua iconice eccetera perché solo dalla bomba che arriva qui si capisce è quello che succederà dopo che non viene narrato anzi girando la pagina c'è la scena sexy ovviamente cioè è veramente a volte molto disturbante questa scena cioè mentre la bambina viene defraglata viene smembrata in mille pezzi il ricco egiziano sta spassando la moglie insomma è un po' il senso della vita perché Magnus era anche un cultore di buddismo induismo eccetera eccetera in cui la vita mischia tutte queste cose in maniera orribile devastante nel senso che l'orrore si mischia cioè noi tendiamo molto spesso a dividere la tragedia e la commedia e Magnus qui unisce le due cose perché sono due aspetti che possono avvenire contemporaneamente ovviamente poi il linciaggio del terrorista che poi viene buttato con un cane rognoso eccetera eccetera con questa scena ovviamente disperata ovviamente ho sconosciuto le tematiche anche perché ripetiamo il lettore di fumetti è un lettore strano cioè io sono un lettore di fumetti ovviamente ma tendenzialmente anche nella lettura di fumetti ci si tende a specializzare lo vediamo con i manga cioè chi legge manga provatevi a dargli sta roba qui non te la tira dietro cioè secondo me il vero lettore di fumetti quello più completo è quello che può passare dai manga allo sconosciuto da Paperone a Magnus cioè voglio dire passando per la Unford nel senso che pure lo stesso medio e mezzo può darci Paperone dei Paperoni alle prese con le strambi invenzioni di Archimede e Tabeta e la guerra Libano in Libano tra palestinesi e per israeliani e le due cose non sono cioè sono ovviamente in forte contraddizione però come ci hanno bollato in tanti anni a noi lettori di fumetti nel senso quando veniamo oncologi bollati come categoria di reprobi eccetera eccetera veniamo bollati o che leggiamo queste cose qui stupide da bambini ma questo non è un fumetto da bambini cioè se imparate si impara molto di più della guerra arabo-israeliana eccetera eccetera naturalmente c'è anche il e niente si impara molto più da un fumetto come questo da 100 articoli di giornale o video inutili su youtube credo che purtroppo la storia che sta raccontando Magnus è talmente attuale perché nella guerra attuale tra israeliani e palestinesi ovviamente ognuno fa il tifo per chi gli pare naturalmente gli israeliani hanno invaso Gaza però i terroristi palestinesi hanno ucciso bambini piccoli eccetera allora se mi dite sì però naturalmente si tende a fare che cosa il tifo è umano Guelfo di Bellini allora però se si parte una situazione un po' più manzoniana metastorica si dovrebbe vedere che comunque ci sono un gruppo di persone che sono le vittime innocenti che comunque ne buscano da tutte e due le parti ragazze israeliane violentate e uccise i bambini uccisi valgono il bambino israeliano ucciso valgono il bambino palestinesse sotto i bombardamenti hanno lo stesso valore e questo non ha niente nelle teste né dei fili palestinesi né dei fili israeliani cioè che una vittima innocente è prima di tutto una vittima innocente poi la possiamo colorare con i colori della palestina di Israele ma se noi non leviamo questi colori se un bambino ucciso rimane un bambino ucciso e non c'è giustificazione che terrà mai per un bambino ucciso e questo che ci vuole dire Magnus che è una lezione secondo me abbastanza importante certo Elga è una piccola bambina turista ricca eccetera ma questo non implica che debba essere smembrata da una bomba nel senso è un discorso molto complesso lo fa Magnus non dipendono questi tipi di disegni a me poi Magnus appunto tornerà su disegni stile criminal satan del texone e naturalmente abbiamo parlato di Magnus però secondo me in parte lo sconosciuto ovviamente ritornerà su Oriente Espress ritornerà l'uomo che uccise Che Guevara e l'uomo che uccise Che Guevara sarà un po' il Giuda nel senso un po' la storia di Gesù e Giuda ma in questo caso Giuda Giuda è l'uomo che uccise Che Guevara si redime si redime in un gesto finale in cui cerca di cancellare la sua vigliaccheria questa è un'altra storia l'uomo che uccise Che Guevara ha caratteri molto evangelici la stessa figura di Che Guevara che si vede poi sdraiato seminudo con la barba ricorda molto Cristo perché naturalmente è ovvio che rimanda a un tipo di fumetta anche politica nel senso che oggi siamo un tipo di politica in realtà tra destra e sinistra che a me sembra molto Francia o Spagna perché se magna e la vicenda dei Pandori mi sembra sia massimo del Francia o Spagna perché se magna perché poi ci sono personaggi che fanno ovviamente dotte che la destra è sempre stata destra quindi vabbè nessuno sospede però anche vediamo anche personaggi di sinistra che hanno vantano una certa autorità morale e poi cadono sui Pandori e allora è nel sospetto che Francia o Spagna sia una morale molto becera però in Italia torniamo sempre a questa morale che io mi metto di qua tutti i metti di no facciamo finta di e poi i ladri di Pisa che di giornolitica di notte vanno a rubare insieme cioè ci sono questi problemi in Italia c'è un motivo perché le nostre divisioni politiche sono più apparenti che di sostanza sono più claunesche mentre negli anni 70 comunque lo scontro politico aveva un carattere un po' diverso di vero scontro politico nel senso che ancora si parlava di operai di fabbriche eccetera eccetera oggi si parla ovviamente di tutte cose di diritti LGBT si parla del patriarcato che non esiste più da quando però si arriva a centrare quello di cui parlavano i comunisti negli anni 60 cioè del capitale quello non si tocca più se ci fate caso il capitale non viene più toccato si parla di vari diritti delle minoranze però fino a lì siamo tutti d'accordo però nel momento in cui si dice per esempio i rider e lì se ne parla molto meno si parla più del patriarcato che dei rider insomma capite che quando si va a toccare il fatto che il lavoro non si tocca male perché tanta gente lavora anche influencer di pseudo sinistra lavorano su questo ma perché sto facendo questo discorso perché negli anni 60 70 la lotta politica aveva forse un significato maggiore oggi veramente siamo caduti stavo vedendo anche nei vari video su youtube il ritorno del dialetto molto spesso si calca vediamo molti autori di tiktok che parlano in dialetto stretto sembra un'Italia siamo tornati quasi un'Italia seicentesca un'Italia dove persino l'uso della lingua italiana non è più così diffuso quindi sì vabbè romanesca a me piace però ervide erbese tutti ognuno nel suo piccolo dialetto perché siamo tornati in quest'Italia del seicento Francia o Spagna perché si mangia se poi il panettone è buono e il pandora ancora e allora non capisci più la differenza tra quelli che stanno da qua e da là perché li vedi tutti allo stesso direbbe purtroppo forse la filosofia di Alberto Sordi ma il pappone che unisce il pappone era magna del pappone ed è molto sono molto io non parlo di politica qui ovviamente c'è la politica ma qui c'è ancora un livello alto molto alto oggi stiamo a parlare di pandori sì diritti cil patriarcato va bene le femmini ma in realtà poi comunque e poi quando si scopre che poi si vogliono vendere i pandori e ci si rende conto che anche quelli che in teoria sono di sinistra il capitale quel cavolo che gli vanno dietro perché anzi sono i primi quindi da una parte c'è una facciata buona molto buona molto politica al corretti però dietro questa facciata molto politica al corretti c'è un totale asservimento alle leggi del capitale dette da me che non sono comunista poi devo dire io queste cose che non sono comunista però vedo tutto questo perché quando mi si fa due scatole così sul patriarcato per carità e non mi si parla dei veri diritti quando ho fatto un video sui lavoratori che sono stati tranciati da un treno di queste cose se ne parla sempre poco e non è che se ne parla poco perché lì si andrebbe a toccare dei tasti molto dolenti per esempio sulla riforma dei taxi delle corporazioni di certe categorie di lavoratori che sono straprotette in Italia parliamo dei tassisti per esempio sono straprotetti e non li puoi toccare i tassisti perché sono una corporazione medievale e tutto questo e capite che lì non si va non ci va nessuno parliamo del patriarcato ma sì chi se ne frega capite che e invece Magnus ci porta a un periodo io ancora mi ricordo degli anni settanta in cui anche le occupazioni che ora continuano a fare i vari studenti sono pure buffonate diciamoci buffonate perché se tu occupi un liceo a Firenze dicendo che noi lo facciamo per la Palestina come se Netanyahu diciamo hanno occupato il Machiavelli a Firenze oh cavolo ora disoccupo la Palestina perché stiamo dicendo e cosa dovrebbe fare il presidente del Machiavelli non so in via per l'ambasciata io già ho avuto il presidente del Machiavelli pronto sono il presidente del Machiavelli e hanno occupato il mio liceo hanno detto gli studenti che se non liberate ma è ovvio che è una è una recita sono recite sono è ovvio che ancora nel secento esistevano i guelfi ghebellini ma erano diventati una cura buffonata mentre al tempo di Dante i guelfi bianchi i guelfi neri avevano un carattere molto politicizzato i guelfi bianchi contro il papa capite che poi ad un certo punto lo stesso pensiero politico si sfalda in una sorta di macchietta di sceneggiata così quella che sta purtroppo accadendo siamo in un nuovo neo seicento quindi siamo vabbè questo è un discorso lungo che non farei nel senso che però leggendo lo sconosciuto mi sono ritrovato in tematiche degli anni sessanta settanta che oggi sono state completamente abbandonate persino dalla sinistra ma sarebbe un discorso molto lungo che non farò